Musica Ragazzi buongiorno, io sto un pochino male quindi scusate se oggi non esce il video Comunque ci tenevo a fare questo post, anche se sto male Per dirvi di condividere il post di questo ragazzo che è stato vittima di bullismo Ha avuto un problema alla scapola, nessuno lo vuole operare Quindi magari se c'è qualcuno disposto Ragazzi, gentilmente, so che a qualcuno dispiace però vi chiedo di non insultare la mia nuova ragazza Perché ho letto di tutto sotto il post e lei tra l'altro non è anche italiana Quindi neanche capisce quello che scrivete, quindi per favore non insultatela, grazie Per tutti quelli che non ci credono ragazzi, domani sera sarò a cena con lei E quindi vedrete, le vedrete delle belle, metterò insomma qualche instastories e qualche cosa A proposito, siccome domani ci vediamo, lo volete un video con lei? Fatemelo sapere qua nel sondaggio Come ci siamo conosciuti ragazzi è stato bellissimo Perché praticamente io ho commentato una sua foto a casissimo Scrivendole una tipa chic come te vuole un trap boy come me E praticamente si è innamorata Visto il mio profilo si è innamorata Visto il mio profilo si è innamorata Visto il mio profilo si è innamorata